Il pagellone da 0 a 10 ed eccoci qua, quindi arrivati all'ottava giornata. Prima di iniziare come sempre vi invito a lasciare tantissimi mi piace qui sotto, ma tantissimi, altrimenti questa serie la prendo e la stacco. Ma se vi piace dimostratevelo e dimostratemelo, iscrivetevi al canale, lasciate tantissimi mi piace e noi partiamo come sempre con il pagellone da 0 a 10. Voto 0 al Crotone, che proprio non c'è. E dispiace dirlo dopo una sconfitta contro la Lazio, dispiace dargli 0, ma questo Crotone davvero non sembra possa salvarsi. Tra le squadre che sono salite su è certamente la meno attrezzata e nelle prime 8 gare ha totalizzato solamente 2 punti. La vittoria ancora non è arrivata, ma di gol ne ha presi veramente tanti, ben 19 a fronte dei soli 6 fatti. In questo modo la vedo veramente difficile per il Crotone salvarsi, anche se va detto che contro la Lazio un po' del loro ce l'hanno anche messo. Voto 1 all'ennesima rimonta subito dal Torino, perché se da una parte l'Odo l'Inter, dall'altra sbrodo il Torino e Granata proprio non ci sono con il cervello. Ennesima rimonta subita, se non sbaglio con questa siamo a 4 e Giampaolo rischia ancora una volta la panchina. Perdere con l'Inter ci sta, andare in vantaggio 0-2 e poi farsi rimontare 4-2, questo proprio non ci sta. Il Torino dopo 8 giornate è in piena zona retrocessione e forse Giampaolo non si sente poi così tranquillo. Voto 2 alla prima di Prandelli con la Fiorentina. Sia chiaro, non voglio buttare giù nessun idolo, non voglio distruggere nessun allenatore appena arrivato, Prandelli non ha una bacchetta e non è un mago. Certamente di più non poteva fare, però l'inizio non è dei migliori e se chi ben inizia è già a metà dell'opera, Prandelli l'opera deve iniziarla da capo, deve riniziarla, perché Cesare Prandelli debutta perdendo in casa contro il Benevento, una sconfitta non accettabile per quello che la Fiorentina si era messa in testa di fare e quindi voto 2. Voto 3 al Parma senza capo né coda. Non è cattiveria, io l'ho affrontata anche da romanista, ma ho visto tutte e sottolineo tutte le difficoltà di una squadra costruita male, costruita male perché è stata data una squadra di contropiedisti ad un tecnico che costruisce come Liverani, perché sono stati dati giocatori sconosciuti arrivati tutti gli ultimi 2-3 giorni di mercato. Il mercato del Parma è sostanzialmente lo specchio di quello che il Parma sta mettendo in campo e questo Parma se non si sveglia anche a livello di gioco rischia la Serie B. Voto 4 al K.O. del Napoli. Il Napoli qualcosina l'ha fatta vedere, ma il Milan a mio modo di vedere ha meritato la vittoria. È vero, batti e ribatti, Di Lorenzo che prende la traversa, ma troppi giocatori insufficienti. Tra Di Lorenzo, che ho appena citato, e Fabian Ruiz, sembra veramente che il Napoli in questo momento sia piuttosto in difficoltà. E la sconfitta maturata dimostra che forse i partenobai sono meno pronti del Milan a prendersi la vita della classifica. Per carità, il Napoli è partito bene e gli sono stati anche tolti 4 punti in modo assurdo. Però in questo momento il Napoli di punti ne ha 14. Voto 5 ad un Atalanta da metà classifica. No, non voglio fare il Milan da scudetto, che lo dirò, è l'Atalanta da metà classifica, che l'ho detto, semplicemente per le posizioni dopo 8 giornate. Ma l'Atalanta che abbiamo visto ieri e che vediamo da 8 partite a questa parte è circa da metà classifica. Contro lo Spezia, l'Atalanta non azzecca praticamente nulla che si tratti di poter vincere la partita. E in questo modo proprio non va. Voto 6 a Benevento, Bologna, Udinese e Spezia. E a tutte queste vittorie per la salvezza, il Benevento espugna il Franchi. Lo Spezia fa un punto contro l'Atalanta, il Bologna batte la Sampdoria e rimonta. Addirittura l'Udinese batte il Genoa nello scontro diretto per la salvezza. Quattro vittorie importanti, per quanto riguarda lo Spezia un punto, ma tale come una vittoria, che a fine anno di sicuro peseranno. Quattro squadre che dimostrano di voler dare un colpo di coda è che certamente non si arrenderanno facilmente. Il Benevento lo fa con il gol che mette nei guai la Fiorentina, nello Spezia blocca l'Atalanta, l'ho già detto. L'Udinese batte un Genoa che proprio non c'è con il cervello e poi ovviamente il Bologna. Voto 7 alla reazione dell'Inter. Perché che vi piaccia o che non vi piaccia, che pensiate che l'Inter ha giocato male o bene, che non siete d'accordo con il modus operandi di Conte, fatto sta che la reazione di quest'Inter, vista nella gara dell'ultima giro da conto del Torino, è da incorniciare, perché l'Inter è sotto 2-0, perché l'Inter ha praticamente perso questo match, ma il match non lo perdi, sei in campo, c'è la pazza Inter, così la chiamano i tifosi, e propriamente non hanno torto. L'Inter la ribalta con il solito Lukaku, con i gol di Sanchez e con quello di Lautaro Martinez, tre punti fondamentali che salvano la baracca, che danno tranquillità, che mettono l'Inter in una certa posizione per il match contro il Real Madrid e che per la prossima giornata mettono la squadra di Milano in tranquillità. Voto 8 a Cristiano Ronaldo e Ciro Immobile che trascinano la Juventus per Ronaldo e la Lazio per Immobile. La Juventus per Ronaldo sì, perché Ronaldo fa la doppietta decisiva, quella che batte il Cagliari 2-0. Per Immobile anche, perché Immobile è fondamentale, torna e subito fa gol contro il Crotone, nella piscina di Crotone, lì dove la Lazio vince, torna a vincere e torna a convincere. I due bomber, i due grandi bomber del nostro campionato, a confronto ancora una volta. Voto 9 alla Roma terza, è ancora imbattuta sul campo. E non voglio fare il romanista, sia chiaro, lo sapete, la Roma in alto non la metto mai, ma adesso è inevitabilmente da voto 9. La Roma in questo momento è terza in classifica, 17 punti, sarebbero 18 se qualcuno non avesse sbagliato in lista di Avarà. I punti che distano, che distaccano la Roma dal Milan primo, sono solamente tre. La Roma continua a vincere, ieri lo fa sempre con il solito splendido Mkhitaryan, nonostante le assenze pesantissime, quelle di Gumbullà, quelle di Smalling, l'altra, quella di Adin Gekko, che costringe Fonseca a far giocare Gerni Borca Maioral di punta, e soprattutto Cristante da difensore centrale ultimo uomo. Nonostante ciò la Roma vince, continua a vincere, e l'ultima sconfitta, l'unica sconfitta maturata, è arrivata a tavolino. E voto 10 al Sassuolo primo in classifica. E chi se lo sarebbe mai aspettato? E chi se lo sarebbe mai aspettato? Sì, ma il Sassuolo non è primo in classifica, lo so, e aspettate perché non è nemmeno finito questo video, questa non è l'ultima posizione, siate tranquilli. Fatto sta che il Sassuolo per una notte più è stato primo in classifica, anzi per una notte in realtà nemmeno troppo, per 6-7 ore forse, il Sassuolo batte il Verona, continua a dimostrare di essere una squadra rodata, continua a dimostrare di essere una squadra che lì su ci sa stare, segna Bogà, segna Berardi, per una volta che non c'è Caputo ma c'è Raspadori, il Sassuolo convince ugualmente, e vince nel match delle outsider, battendole a Las Verona, in un incontro tutt'altro che facile. L'unica cosa che posso dire, è complimenti a De Zerbi, per aver allestito una squadra che adesso può far paura, davvero, a tutti, tutti, tutti quelli che affronteranno il Sassuolo, da qui, alla fine del campionato. E, ve l'aspettavate, voto 10 e lode, ovviamente, al Milan, primo in classifica, vero primo in classifica il Milan, il Milan che chiude la giornata, primo in classifica, che vince anche a Napoli, che dopo aver vinto, a Napoli, dopo aver vinto il derby, chiude la bocca anche agli scettici, a quelli che dicevano che il Milan vinceva solo contro le piccole, e sì, ci sarà uno splendido Slatani Ibrahimovic, assolutamente sì, che fa doppietta, e che fa tremare tutti quando esce per infortunio, per fortuna da quello che ho capito non è niente, però è comunque un Milan che ha vinto con, al tempo adesso, e al tempo anche senza, Slatani Ibrahimovic, è un Milan che vince, è un Milan che convince, ed è un Milan che continua a farlo, il Milan dopo 8 partite è primo in classifica, 20 punti, e a mio modo di vedere, il Milan con Pioli e Rosso Neri in generale, meritano un sacco di applausi, questo era il mio pagelone da 0 a 10, per l'occasione anche da 0 a 10 e lode, in realtà, ho inserito due 10, ma secondo me in questa giornata, meritavano entrambi un voto alto, il Milan più alto del Sassuolo, per quello che sta dimostrando, detto questo, fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto, lasciate tantissimi mi piace, vi ringrazio, iscrivetevi al canale, boccella laline come sempre, ci vediamo ad un prossimo video!